Potete mettere il vostro colore che vi piace di più? Noi siamo oscuro Nome specie io metto Youtubers In onore di tutti i fan Tutte le persone che ci stiamo seguendo E in basso a destra c'è scritto Salve Adeshi Ci partirà la nostra creatura Questo è l'uovo, la creatura esce Visto che siamo anche erbivori Al fianco ho le parti per erbivore E posso mangiare queste cose verdi Come ho detto all'inizio Che sarebbero per gli erbivori Ah sì, se avete visto prima Ogni volta che succede qualcosa Divento un po' più grande Ogni tacchetta Vi farò vedere anche adesso Che ogni tacchetta vedete gli altri E i piccolissi E noi vedete l'ecco Ecco, a metà tacchetta circa Vi dovete sempre ringrandire così Ehm Sì, a metà tacchetta dipende com'è Ehm La bocca serve per mangiare Ehm Sì, anche con l'erbivore Però mangiano solo quelle parti verdi Poi la coda Poi la coda, questa coda qua serve per la velocità Velocità Ehm Serve molto Ogni Cioè Si blocca ogni dot Cioè Ogni persona cucidette Ogni Sì Ogni persona Ogni cellula cucidette Vi daranno Una parte diversa di Corpo Dipende che cellula uccidette Tipo uccidette Questa piccola cellula qua Non mi daranno niente Vedete E invece questa Forse mi danno un premium Se uccido questa Però Voi vedete Io non posso fare niente Con le giganti Anzi Vi voglio mangiare Ehm Ecco Tipo Ero nato dietro il veleno Il veleno mi fa danno Mangiata Ogni 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 Dobbiamo uccidere Le creature Che sono così Tipo questo Mi da Le pinne Questo qua Mi da il veleno Perché se andate sopra La creature Senza cliccarla C'è scritto Cosa vi da Quindi Mi raccomando Non state mai dietro Con la scia Viola Perché È il veleno E vi farà danno E poi vedete Io ho pochissima vita A colpa di quello lì Che mi ha messo Il veleno dietro E adesso Dobbiamo Cercare di ucciderla Questa cattura Ecco È morta Grazie a me Perché me l'ha ucciso L'altra L'altra Volevo recuperarla Però Non so se ce la farò Ah Vedete Quelle pinne lì Sono velocissime Quindi sono Mi faranno andare Velocissimi Ogni volta che vedete Quelle Sì Questa Andateci sopra Ehm Adesso vado a catturare Di cellula E devo solo mangiare Con un po' di Erbetta Sì Questo Agli spini Vedete qua In parte Agli spini E vi fanno Sempre danno Quando Gli andate Addosso E quindi Come avevo detto Prima Dovete recuperare La vita Mangiando Quando cliccate Questo qua Che si chiama Chiamapartner Vedete I cuoricini In basso Dove Dove Si trova Dovete andare A cercarla Vedete Le onde Adesso Devo rifarlo Ah Eccola lì Andate vicino E Parte il filmato Che fa Amore Tipo E fa L'uovo Eccoci qua L'uovo Come vedete Ho sporcato Quello Che avevo detto Prima Il ciglia Pensavo Di spostare Un po' Gli occhi Le ciglia Sono tipo Delle pinne Che hanno L'abilità Svolta rapida Cioè Che si Svolta più Velocemente Questa è Da velocità Ma anche le ciglia Hanno velocità Come vedete Adesso è due Prima era uno Adesso Uno Due E in più Se messo Svolta rapida Tua cellula Si gira rapidamente E questa Ha una Abilità In più E Youtube La nostra Piccola Youtuber Si sta Formando Dall'uovo Eccola Qui Eccola Andiamo In una ricerca Di Tante Tante Eccola qua Tipo questo Si è Spostato I suoi Partigli E' un Sempre Quella Quella Cattura Lì Dobbiamo Prenderla Da dietro Vedete Da dietro Non ha Non ha Spini Ogni Cattura Si Come ho fatto Da prima Che andate Sopra Una Cattura Vi dice Tipo Questo Mi Da La Velocità No No Non Non farmi Prendere Non farmi Prendere No Non farmi Ma io No Un'altra Metà Vita Mi ha tolto Quel 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 No 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 Aia 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 Ciao Amico Guardate Questo qua Quando vi trovate Vedi Vosti Amici Non si terrà Niente Giratemi Intorno Non si terrà Niente Questa La Scossa Aia Vedete Quando morite Succede Così Cadete E vi farà Ritornare In Un'altra Cioè Vi farà Ritornare In un altro Posto Questa Appena Pesua La Scossa Non si sa Chi E Quando trovate Quelli Lecce Così Grossi Vuol dire Che sono Quelle Più Sviluppate Di Voi E Quando Cascate Saranno Sviluppate Aia 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 Questo è Mio 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 Ho sbloccato Quello Aia Ho sbloccato Fulmina Elettrico Che sarebbe L'abilità Che avevo fatto Vedere Prima Sto scappando Da questo Gigante Aia Ehm Perché è Troppo grande Ehm Certo Come ho fatto Vedere Prima Elettrico E' Quello Che mi faceva Marecane Come si può definire Perché Vi Elettricizza Ci vorremmo Non fare niente Vedete Questi qua E' Gigantecchi Prima Adesso Non mi fanno Più niente Vedete Mangiato Tranquillamente Sì Vi faranno Andando Perché Avranno Le loro Abilità Però Non 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 Vi faccio Come Asteroide L'asteroide Se andate Sopra Vi Sbloccherete Qual Cosa Io Mato Lui Mi sa Che Vince Lui Perché Ha Anche Gli Spini O L'attacco Da Dietro Tro Eh Scusate Sto Molendo Così Tante Volte Ok Andiamo Della nostra Amata Facciamo L'ovetto Potete Anche Saltare I film Adesso Vedete A me è partito Subito Questa fase E 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 Tra E E E E 5 5 Pugli DNA Ah Sì Non so Se Vi Ho detto Prima Vi Parli Sì Che Ogni Sì Ogni Cosa Che Mangiate C'è Scritto 1 Più 1 Più 1 Sì Il Conchiglia Non potete Farci Niente Vedete Sanno Che Sono Conchiglia Ma Non Faccio Niente Poi Ci Siamo I Punti Cioè Vedete Come Sono Veloce Ci I Punti In Cui Tu Voi Veloce Alcuni Quelli Che Quelli Che Fa Più Danno Ogni Cap Proprio Insomma Ma Ma Perché Se Ma Amici Aiutatemi Amici No Vi Prego Aiutatemi No 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 Perché Insieme A me Scappa No Che Gigante No 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 Ti Prego No Ti Prego No Fatti Salto Uno Quanto Uno Non c'era mai Nessuno Scappa Scappa Vedete Le pine Che Ho Io Quelle In Parte Servono No Aia Servono Per Fare Più Cioè Per girare Molto Più Velocemente Come vi Siete Accordi 26 Pugli DNA Potrei Chiamare Anche Adesso La mia La mia Piccola Crattore Una Ragazza Andiamo A Non si sa Perché È Bagata Sulla Conchiglia Vabbè Facciamo Il piccolo Ovetto E ci Mettiamo All'elettrico L'elettrico Come vedete E Distacco La tua Celula Può Nascosta Dalle cellule Vicino Atterrà immunità Le scosse Di altre cellule E la nostra Piccola Youtuber Si sta Involvendo Nel migliore Nel migliore Dei modi Eccolo qua Vedete che Scusate Ce n'era Ok Vedete che Che ha quella Quella parte Gialla Intorno Serve Per proteggerci Da altre Scosse Seconda cosa Serve per Dar scosse Alle altre Ah Volevo dirvi Che Si Questa Con questa Scossa E No 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 Ah si Potete dare la scossa Quali più grande Però Un po' Vedete Che non fa niente Perché si deve ricaricare Vedete Li sto facendo danno a una cellula così Gigante Guardate 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 Li sto facendo male cani Adesso vi farò sentire il nano crepato Ho sentito Poi guardate Ah si Eh ma cosa devo dirvi Guardate Quante Quanti creature Uguali a me ci sono Servono Cioè Vuol dire che la vostra cellula Si sta spendendo Nel migliore dei modi Nel migliore dei modi Adesso L'uccido No Ancora un colpo Ancora un colpo E lo uccido